Sandro Cossiga, consigliere Udc. Il Comune di Pozzoni sta lavorando a due importanti progetti che si rivolgono ai giovani. Di cosa si tratta? Allora, come ben sapete è stato approvato sia la Carta dei Giovani che la problematica del Forum dei Giovani e della Consulta Giovanile. Stiamo lavorando in maniera un poco più concreta sul forum perché le stesse associazioni giovanili ci hanno chiesto un maggiore impegno su questa problematica e oggi abbiamo un'ulteriore riunione per affrontare la decisione di quando fare le elezioni del Forum dei Giovani. Quindi come ben sapete tutti i giovani tra i 15 e i 29 anni potranno presentarsi per far parte della consulta del Forum Giovanile e quindi potranno partecipare in maniera più concreta alle attività della città. Quindi la mia delega è in effetti alle politiche giovanili e stiamo cercando di riversarle in mano a tutti questi giovani per essere un poco più diramati sul territorio e lavorare in maniera più concreta. Quanto invece alla Carta dei Giovani che è stata approvata in Consiglio Comunale si sta lavorando con i dipendenti comunali e con i sindacati per creare un maggior riscontro quindi anche negli esercizi commerciali e tutte le persone che svolgono attività sul territorio per avere una maggiore visibilità per i giovani e quindi dargli un maggior riscontro anche sociale. La Carta Giovani nei prossimi mesi sicuramente si avrà concretezza su tutti i fronti perché è un lavoro un poco più lungo nel senso che bisogna fare degli accordi commerciali anche con chi lavora sul territorio e quindi è un iter un poco più lento. Quanto al Forum penso che per maggio riusciremo anche a portare a votazione i giovani per l'elezione della Costituzione del Forum.